Benvenuti su Metri e Giuliaci, il tempo previsto per venerdì 20 gennaio, ebbene prosegue il cliché di tempo che abbiamo visto nel corso di questa settimana, ossia bello ma freddo sul nord Italia, nevicate fino a bassa quota sul medio adriatico, piogge qua e là sul resto del centro sud. Ma andiamo nei dettagli e come potete vedere venerdì piogge al centro tranne Abruzzo e Molise, temporali sul Gargano, nevicate fino a bassa quota su Romagna e Marche, forti gelate di notte e nel primo mattino sul nord Italia. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.